Sì, è successa una cosa senza precedenti stamattina. Sono otto anni che il circolo Arci Sparvasser ha casa qua, a via del Pigneto 215, nel quartiere Pigneto di Roma. E sono otto anni che noi utilizziamo il nostro tetto, la balaustra del nostro tetto, per appendere striscioni e lanciare messaggi al quartiere, prendere posizioni sui più svariati temi di cui ci occupiamo. Messaggi femministi, ecologisti, di pace, controllo stop e il cessate al fuoco, ogni conflitto. È successo per la questione in Ucraina e Russia. È successo anche di recente sui bombardamenti israeliani a Gaza. Abbiamo preso una posizione e abbiamo messo uno striscione giorni fa che recitava «Fermiamo il massacro, free Palestine». Stamattina è successo qualcosa senza precedenti. Non era mai successo in otto anni che dei dipendenti pubblici, in questo caso dell'ufficio Decoro del Comune di Roma, passassero e senza alcun preavviso strappassero il manifesto dal nostro tetto. È una cosa che ci ha lasciato profondamente indignati, che ha a che fare con la mancanza di libertà di espressione in questo Paese, in questo momento preciso e storico su ciò che sta accadendo in Medio Oriente e sui bombardamenti israeliani di Gaza. Non era mai successo nulla del genere negli ultimi otto anni e abbiamo assistito a qualcosa senza precedenti che lede profondamente la libertà di dissenso, di presa di posizione e di espressione.